Paolo Renzi è un residente di Viabini, quartiere Villa San Martino e come tanti altri pensionati e abitanti di quella zona richiede tranquillità e rispetto. Questo invece quanto non accade nel parco giochi di fronte al suo appartamento, che se di giorno vede manifestarsi ordine e silenzio, di sera fino a notte fonda la stessa area si trasforma in un luogo dove tanti ragazzi adolescenti si ritrovano senza rispettare le regole del quieto vivere. Qui fino a notte tarda, quasi mattino diciamo, è sempre un gran chiasso, un gran rumore. I ragazzi che urlano, giocano col palone, vanno avanti, fanno le corse con lo scooter, anche qui dentro il parco entrano. Insomma la cosa è diventata invivibile. Col palone tutta la notte, sempre questo palone che rimbalza, boom boom, tutta la notte, fino alla mattina presto. E qui la cosa è diventata insopportabile. Vai a dire qualche cosa, ti minacciano anche, ti dicono che devo fare, non devo rompere le scatole, non devo rompere. E qui io chiedo solo alle maestranze che ci sia un po' più di sorveglianza a questi ragazzi. Loro vogliono giocare, noi vogliamo dormire, però la cosa non va avanti così. Non si può andare avanti così. Fino a notte fonda, fino alle 3, alle 4 del mattino che non le permette di dormire. Sì, fino alle 3, alle 4 del mattino. E la cosa va avanti così, sarà 3-4 mesi da quanto è finita la scuola. E' impossibile riposare. E io chiedo solo questo, che almeno, almeno che ci sia un po' di sorveglianza, un po' anche un po' di rispettabilità nei nostri confronti. Tanto noi abbiamo lavorato, siamo pensionati, abbiamo diritto anche di riposare un po'. E non lo so. E poi in questo parco è stato chiuso un pezzo di strada per facilitare il gioco dei bambini, invece viene usato in un altro modo. No, infatti è così. C'è il parco lì, la strada che viene chiusa, da lassù dove c'è i palletti fino a qui, lì è tutto libero. I ragazzi, i bambini devono giocare perché fanno, giocano a campanaccia, non so cosa fanno. Ma dopo un certo ora viene preso d'assalto da questi ragazzi col palone, tirano il palone, tirano. E poi con lo scooter fanno le corse, vanno contro mano, non hanno più rispetto di niente. Qui va, questa è una strada a contromano, passano di là, arrivano qua, tagliano la strada nel campo. Guarda, lei dovrebbe stare qui una sera, deve venire qui una sera e lo vede come è veramente. Perché a spiegarlo è sempre possibile. Guarda, lei dovrebbe stare qui gemendo. Grazie.